Nessun tipo di pressione si regista attorno alla Pistoese, nemmeno il primato solitario in classifica ha modificato il modo di procedere. In tutti gli arancioni c'è sete di vittoria. Ogni partita viene affrontata con attenzione e la giusta determinazione. Archiviata la vittoria contro la Pianese, l'allenatore Massimo Morgia ha già sintonizzato i propri uomini sulla trasferta di domenica prossima sul campo del Flaminia di Civita Castellana. L'avversario è reduce dalla vittoria contro la Colligiana e dal pareggio esterno di domenica scorsa a Bastia. In classifica 14 punti, tanti quanti lo Spoleto e il Gualdo Casacastarda. È una squadra che segna con il contagocce, ha realizzato appena nove reti, ma possiede una difesa piuttosto salda con 15 reti subite. Massimo Morgia sta valutando le condizioni fisiche di forma dei giocatori in organico. Lorenzo Collacchioni è in fase di recupero. Se giovedì disputerà la partitella di collaudo di metà settimana contro la squadra del San Felice, che partecepa al campionato di seconda categoria, calcio d'inizio alle ore 15 sul terreno di Pistoia Ovest, potrà sperare di rientrare in squadra dopo un mese di assenza. Morgia sta valutando la posizione di diversi giocatori in diffida, tra cui lo stesso Collacchioni, Nocentini, Toledo, Peluso e Giovanelli. Ma torniamo ad occuparci del Flaminia. La formazione laziale ha ottenuto complessivamente tre vittorie e cinque pareggi e sei sconfitte. Tra le Murami, che ha vinto una sola volta, ha ottenuto poi tre pareggi e altrettante sconfitte. Il centro coordinamento club Sarancioni organizza la trasferta al seguito della squadra. La gita in pulma partirà domenica mattina dallo stadio Marcello Melani alle ore 8. Per ogni utile informazione gli interessati possono rivolgersi presso il bar Caffè Arancione sul viale Petrocchi. Lunedì scorso, infine, l'allenatore Arancione Morgia ha incontrato gli studenti dell'Ite e dei Geometri per parlare di etica sportiva, proponendo argomenti importanti e invitando i giovani riuniti in assemblea ad un'attenta riflessione.